Il guru Natale Gatto, in settimana hai chiamato a raccolta i tifosi, hai chiesto unità di intenti e concentrazione alla squadra e sembra che quest'oggi tutti abbiano risposto presente. Un 3-0 netto, si ripete la vittoria come contro la Morrone, nessuna sbavatura. Natale, come ti ritieni questa sera dopo questa prestazione? Siamo molto soddisfatti di questa prestazione e di l'andamento della stagione, anche se potevamo avere qualche punto in più ad oggi. Però oggi, se visto all'ultimo momento, è venuto a mancarci il portiere, non abbiamo fatto un problema, ha esordito un 2002 cresciuto nel nostro settore giovanile. Simenti, ha fatto bene. Antonio Germano, un po' rammaricato, che cosa è successo? 3-0 netto del Gallico-Gallico, hai qualcosa da dire per questa partita? No, nettamente superiore, dobbiamo solamente pensare alla prossima, partita decisamente superiore del Gallico in tutto e per tutto, voglia, determinazione, questo sì. Il Riolo ci è sembrato un pochettino appesantito, dirige, fa il secondo allenatore in campo, abbastanza nervoso, mister. Perché secondo allenatore? Come mai? Vedevo che dettava i ritmi, dava delle indicazioni. Un allenatore come gli altri, serio, non c'entra né soprapeso, niente. Siamo stati nettamente inferiori, quindi dobbiamo solamente rimboccarci la manca e pensare alla prossima. Quanto incide questa sconfitta sul Cotronei, fanalino di coda con 16 punti? E incide, incide perché comunque si accorciano le giornate, quindi dobbiamo dare sicuramente qualcosa in più.